Una delibera molto importante che conferma ancora una volta l'impegno e l'attenzione di Regione Lombardia per difendere il proprio territorio. Lo vediamo purtroppo dalla cronaca di tutti i giorni quanto sia importante fare prevenzione. Regione Lombardia lo fa da tanti anni, sono oltre un miliardo di euro le risorse investite da questa Regione. Anche oggi altri 18 milioni e mezzo per le nostre province, per i nostri comuni, per le nostre comunità montane, per difendere il suolo, per contrastare il discesso idrogeologico, per garantire sempre più maggiore sicurezza per i nostri cittadini. Frane, fiumi che esondano, dobbiamo avere grande attenzione, rispettare il nostro territorio ma dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per garantire strumenti per difendere i nostri cittadini, le nostre imprese e le nostre abitazioni.